e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere The Karate Kid 3 la sfida finale con Ralf Macchio e Pat Morita la prima volta da maestro ad allievo poi da padre a figlio ora da uomo a uomo ecco qua la copertina molto figa andiamo a vedere il laterale Karate Kid 3 la sfida finale qua c'è il retro contenuti speciali il gioco interattivo per CD-ROM ah c'è anche un gioco interattivo su questo disco Trial Valve e filmografie i famosi di Woody Game qua c'è come sempre quello che non mi piace e qua il disco tutto tutto bello così trasparente con The Karate Kid Part 3 il luogo e niente ragazzi metti se ti piace commentate e scrivete al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti